Con la pubblicazione in gazzetta del decreto legislativo numero 14 del 2010 è stato istituito presso il Ministero della Giustizia l'albo degli amministratori giudiziari. Le attività della nuova figura professionale consistono nella custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati. Potranno iscriversi al nuovo albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati.